Adoro Te, fonte della vita, i miei calzari leverò su questo santo suono, alla presenza tua mi rosterò. Buona Pentecoste, lo dico ancora, buona Pentecoste, oggi siamo all'apice della Pasqua, carissime amiche e amici che seguite la trasmissione Abitare le scritture, attraverso anche Misericordia televisione, Telediocesi Salerno, Radio City e Ebboli 101, ancora una volta ci troviamo insieme ma oggi è un giorno particolare perché a Pentecoste, Pentecostè, 50 giorni dopo Pasqua, c'è questo evento in cui entrare, da vivere e soprattutto poi da trasmettere. E oggi il testo del Vangelo è preso dal capitolo 15 e 16 del Vangelo di Giovanni, il quarto Vangelo. Ascoltiamo. Allorché verrà il paraclito che io vi manderò dal Padre, lo spirito di verità che procede dal Padre, quello darà testimonianza in mio favore. E anche voi dovete rendere testimonianza perché siete con me sin dal principio. E poi continuo al capitolo 16. Ho da dirvi ancora molte cose ma ora non potreste sostenerle. Quando però quello verrà, cioè lo spirito di verità, vi guiderà nella piena verità. Non parlerà infatti da se stesso ma vi rivelerà quanto avrà ascoltato e vi annuncerà le cose che devono avvenire. Egli vi renderà gloria perché prenderà dal mio e lo annuncerà a voi. Tutto ciò che è del Padre è anche mio. Per questo vi ho detto che Egli prende dal mio e lo annuncia a voi. Ricordate, cari amiche e cari amici, che in questi Vangeli, subito dopo Pasqua e prima dell'ascensione anche dopo, abbiamo sempre celebrato il quarto Vangelo. Gesù più volte ha detto non sia rattristato il vostro cuore. Abbiate fiducia in me, io vado a prepararvi un posto. Io devo andar via altrimenti non potrà avvenire l'altro Paraclito. Sì, perché i Paracliti sono due. Paraclito da Paracletos Paracaleo significa l'intercessore, l'avvocato. Ebbene, il primo Paraclito è Gesù e il secondo è esattamente lo Spirito Santo. Domenica scorsa abbiamo ricordato che con l'ascensione si cambia la presenza di Gesù da quella storica a quella sacramentale. Gesù non è più fuori di noi. Noi non lo vediamo, lo tocchiamo, come facevano i discepoli e le discepole. Ma Gesù per la forza dello Spirito Santo vive dentro di noi. Lui è alla destra del Padre, ma non ci ha lasciati soli. Lui è presente qui in mezzo a noi grazie esattamente allo Spirito. Per questo Gesù diceva nel capitolo 15 del quarto Vangelo, versetto 26, Allorché o quando verrà il Paraclito che io vi manderò dal Padre, lo Spirito di verità, cioè lo Spirito di Gesù, che procede dal Padre, egli darà testimonianza in mio favore. Voi pure dovrete dare testimonianza. Perché lo Spirito ci viene dato perché ci ricorda le parole di Gesù e ci aiuta anche ad attualizzarlo. Lo Spirito non dice cose nuove rispetto a Gesù, ma ci dà la profondità di quelle parole. Andiamo nel profondo di quelle parole che Gesù ci ha detto. Anzi, ci sosterrà perché per il momento, dice così il quarto Vangelo, non potreste sostenerle tante cose che io ho da dirvi. Non potete portarle sopra di voi, non siete ancora capaci, non le potete cioè comprendere ancora. È lo Spirito che ci ricorda le parole di Gesù ed è lo Spirito che ci guida nella comprensione e nella attualizzazione. Perché lo Spirito tutto ciò che ha ascoltato dal Padre e dal Figlio ce lo viene a rivelare. Per cui davvero ci annuncerà la pienezza di questa verità. È per questo che lo rende presente Gesù. Quindi il Vangelo è davvero oggi molto forte per tutti quanti noi. Ma che cosa aggiunge poi questa giornata così bella? Oggi vorrei soprattutto commentarvi anche la bellissima pagina di Luca. Perché sapete che l'Ascensione chiude il Terzo Vangelo e apre anche gli Atti degli Apostoli in due modi diversi. Perché l'Ascensione nel Vangelo chiude dopo la Pasqua quel Gesù che viene assunto in cielo in anima e corpo e si fa vedere dai discepoli e va alla destra del Padre. E negli Atti degli Apostoli apre questo testo meraviglioso perché a partire poi da Gerusalemme lo Spirito spinge la Chiesa che è appena nata a dare testimonianza di Gesù. Luca vede nella Pentecoste la pienezza di quell'evento che è stato già celebrato al Sinai la famosa Pentecoste ebraica. Quando leggiamo il capitolo 19 del testo di Esodo noi siamo alla terza luna nuova cioè 50 giorni dopo Pentecoste la Pentecoste ebraica è il dono della legge. Ora attraverso gli Apostoli che dopo la Pasqua prima paurosi ora rafforzati dallo Spirito vengono mandati per la conversione delle gente. Lo Spirito viene dato a tutti. C'è la possibilità di vivere davvero la libertà nello Spirito. Lo Spirito è il compimento della Torah che vuol dire oggi Pentecoste. Pentecoste è proprio possiamo dire segna l'invasione dello Spirito nel cuore dell'uomo. Lo Spirito dilaga, tracima nel nostro cuore. Per cui quando davvero riceviamo lo Spirito e siamo accoglienti c'è un crollo definitivo dell'egolatria, del possesso, dell'egoismo. del dominio. Lo Spirito ci rende umili ci porta alla sapienza di Dio. E quando le discepoli e i discepoli insieme a Maria sono nel cenacolo c'è quel primato della comunità. È bello quell'episodio del capitolo 2 degli Atti degli Apostoli. Un testo meraviglioso. La comunità che prevale sulle singole persone. Lo Spirito scende su ciascuno di loro. E ci sono elencate le popolazioni in capitolo 2, versetti 9 e 11. Per cui tutto il giudaismo della diaspora viene rappresentato. È tutto il popolo di Dio disperso per le terre dell'epoca. È chiaro che Luca, che è un teologo, ha presente il famoso episodio della Torre di Babele in Genesi al capitolo 11. Babele era il tentativo di globalizzare, quello di oggi, di globalizzare negativamente la gente. Una sola lingua, una sola cultura, l'omogenizzazione. È quello che succede oggi. Babele è oggi. Davanti a Babele, dove c'è il monopolio di una sola cultura, di una sola lingua, invece viene fuori la Pentecoste con lo Spirito Santo. Per cui quella verità, come diceva il grande teologo evangelico Karl Barth, è sinfonica. Per cui è il frutto di mettere insieme tante voci. Anzi, è lo Spirito, dice Paolo, che dà unità alla comunità e che permette la diversità. A Pentecoste ognuno ascolta il fratello e la sorella e lo comprende. È il dono della diversità accolta. Ecco perché la Pentecoste è un evento in cui si entra e non è un evento che è avvenuto una volta per sempre. Già negli atti avviene più volte. Anche il concilio è stato un evento di Pentecoste. Perché quando lasciamo passare lo Spirito di Dio, lo Spirito di Cristo, che è il Spirito di verità, la Pentecoste ci porta ancora una volta alla buona notizia. È possibile vivere in Cristo. è possibile aprirsi invece di mettersi nell'autosalvezza e nell'autodifesa. Dobbiamo essere capaci di morire al nostro egoismo, di accertare la verità, di viverla, di essere persone che vivono la gratuità in modo non presuntuoso. Quando si vive così si entra nella Pentecoste, si vive la Pentecoste. Perché la verità è servire gli uomini, prendere l'ultimo posto, lasciare un'orma per gli altri. Si vive per gli altri. Bisogna veramente vivere in solidarietà come Gesù ci ha insegnato. Ecco perché al mattino della Pentecoste viene fuori quella universalità della Chiesa, quel dono meraviglioso degli Apostoli di parlare le altre lingue ma soprattutto di ascoltare gli altri e di comprenderli. ognuno capiva l'altro nella propria lingua. C'è una sorta di comune intesa, una solidarietà, una comunione meravigliosa. I rabbini dicono che quando la legge è stata data al Sinai ebbene fu data a 70 nazioni ma sapete come nell'Antico Testamento prevale l'ebraico. I libri che non sono scritti in ebraico non sono riconosciuti. La Chiesa invece non è legata a una sola lingua o a una sola cultura né all'ebraico né all'aramaico. Noi li studiamo come studiamo il greco. Abbiamo studiato anche il latino. Lo Spirito invece ci fa capire oggi che la Chiesa non sceglie una sola lingua o una sola cultura. Certo abbiamo fatto forse questo errore anche noi ma non è passando dall'essere giudeo per essere poi cristiani. Lo Spirito ci insegna che è Cristo quella pietra di un ciampo davanti al quale dobbiamo adedire o rifiutare. È Cristo al centro della nostra vita. Per cui è importante è un'idea fondamentale dell'apertura della Chiesa. La Chiesa non ha mai privilegiato una cultura o una lingua. Pensate lo diceva già Papa Bio XII addirittura quasi 70 anni fa 1955 vorrei proprio riportarvele queste parole la Chiesa Cattolica non si identifica con nessuna cultura la sua stessa essenza glielo impedisce tuttavia la Chiesa è pronta a intrattenere rapporti con tutte le culture ecco a Pentecoste oggi scopriamo la nostra cattolicità cioè che significa cattolico un significo universale ecco perché la Chiesa ogni giorno dovunque nel mondo celebra l'Eucaristia la celebra in tutte le lingue dopo il Concilio è stato finalmente capito che bisognava celebrare in tutte le lingue perché la Chiesa parla tutte le lingue assume tutte le culture e poi le purifica vieni Spirito Santo oggi dobbiamo gridaglielo perché se vieni tu tutto sarà rinnovato ecco la Chiesa continua a ricevere il dono dello Spirito che veramente porta dentro di noi la vita nuova che bella questa espressione una vita nuova la vita in Cristo e Paolo è il maestro della vita nuova la vita nuova nasce dallo Spirito e lo Spirito ci viene data da quella parola che è Gesù per cui vedete l'Apostolo Paolo è testimone che la vera conversione non è tanto passare dal peccato alla virtù ma accogliere la bontà del Signore accogliere la sua grazia ricordate quel celebre versetto di Galati Galati 2.20 quando dice il figlio di Dio ha amato proprio me e ha consegnato se stesso per me a questo punto è arrivata la bontà di Dio la sua misericordia il dono gratuito lo Spirito ci fa gustare quanto è buono il Signore che è lento all'ira e grande nell'amore ecco perché Paolo anche nella Lettera ai Romani dirà tutti sono giustificati gratuitamente per la sua grazia per mezzo della redenzione che è stata realizzata in Cristo Gesù dunque se siamo chiamati a vita nuova dobbiamo costruire quella somiglianza di cui parlava Genesi abbiamo ricevuto l'immagine il DNA di Dio dobbiamo costruire la somiglianza e qual è la prima caratteristica di questa vita nuova di questa vita filiale Paolo ce lo dice esattamente ricordandoci che l'atteggiamento filiale fondamentale è quello di un amore riconoscente Dio ci offre grazia e noi dobbiamo rendere grazia e Eucaristain Eucaristia questo è l'orientamento fondamentale ecco perché Paolo oggi nella lettera ai Colossesi dice ce lo ricorda attraverso Galate ma in Colossesi al capitolo 3 Paolo ci diceva e augurava ai cristiani di Colossi la pace di Cristo regni nei vostri cuori perché ad essa siete stati chiamati in un solo corpo e poi aggiunge siate riconoscenti siate cioè eucaristici quanto è importante questo e aggiunge che la parola di Cristo dimori tra voi abbondantemente ammaestratevi e istruitevi ammonitevi con ogni sapienza cantando a Dio di cuore con gratitudine salmi inni e cantici spirituali ecco la nostra liturgia deve essere veramente eucaristica cioè piena di riconoscenza di gratitudine per tutti i doni che Dio ci ha fatto e tutto dobbiamo fare per rendere grazia al Signore a Dio Padre nella forza dello Spirito attraverso Gesù Cristo la nostra vita dovrebbe essere eucaristica noi dobbiamo diventare eucaristici per cui è interessante anche la lettera di Paolo che oggi la Chiesa ci proclama famosa questa pagina meravigliosa di Galati al capitolo 5 dai versetti 16 a 25 Paolo descrive è la vera libertà cristiana la vera libertà non mette al centro il proprio io quello che faccio io Paolo dice che la novità cristiana è proprio il criterio del servizio reciproco noi dobbiamo camminare nella forza dello Spirito Santo camminare secondo lo Spirito vuol dire superare ogni egoismo ogni egolatria non possiamo pensare di avere meriti davanti a Dio e in questi versetti Paolo scrive ai Galati una lista di 15 vizi divisi in tre gruppi guardiamoli un attimo i disordini di tipo sessuale i disordini legati ai rapporti interpersonali e i disordini che riguardano i dissidi all'interno della comunità ma come antitesi dice il frutto dello Spirito attenzione perché nel testo greco Karpos è al singolare il frutto non i frutti perché l'Apostolo vuole sottolineare la gratuità e l'unità della vita nello Spirito e il frutto dello Spirito viene elencato attraverso nove termini però divisi in tre gruppi tre per tre significa nove quindi vedete il numero di Dio e noi abbiamo al primo gruppo l'amore che apre la gape insieme alla gioia e alla pace primo gruppo poi il secondo gruppo il rapporto verso il prossimo la grandezza d'animo la macrotiumia la benignità e la bontà ecco sono tre vettori verso il prossimo terzo gruppo è aperto dalla fedeltà la famosa emunà in ebraico la fedeltà l'amitezza e la sobrietà sono nove è in cratea l'equilibrio la sobrietà vedete chi scopre il frutto dello Spirito è sicuro di essere condotto dallo Spirito perché Paolo lo ribadisce la carne non serve a nulla cioè la carne per Paolo è la mentalità mondana la mentalità egoistica possessiva non dà risultati anzi non umanizza affatto tutto questo viene fuori dall'istinto e quindi bisogna stare attenti invece il frutto dello Spirito con quelle nove valenze unifica la persona è un modo di essere se volete è una progressiva umanizzazione chi vive così lasciando spazio allo Spirito dentro di sé davvero diventa non solo più cristiano ma più umano e non sono più azioni ritualistiche o ripetitive ecco perché Paolo dice che bisogna crocifiggere la carne è bella questa espressione cioè inchiodare quell'io terribile quel volere dominare sulle cose sugli altri noi dobbiamo davvero morire all'egoismo all'egolatria dobbiamo saper dominare quella animalità che porta alla bramosia e maturare davvero ed educare anche il desiderio perché se il desiderio viene alterato e diventa bisogno il bisogno porta alla bramosia e quindi al dominio degli altri delle cose ma noi non dobbiamo fare così noi dobbiamo custodire e coltivare i rapporti con la natura con le altre creature soprattutto con le persone ma anche con Dio ecco perché chi vive dello spirito e cammina nello spirito lascia che lo spirito agisca dentro di sé invochiamolo continuamente durante le nostre giornate perché lo spirito è sempre come un help in linea è sempre pronto a darci una mano a suggerirci cosa pensare cosa dire come farlo e in che modo davvero camminare lungo le vie di Dio posso lo spirito come diceva il grande San Francesco essere il ministro generale della nostra famiglia noi ci affidiamo a lui perché il Signore ce l'ha voluto donare il Signore Gesù perché ci ricordi tutto quello che Gesù ci ha detto ci aiuti a capirlo in profondità e soprattutto ci aiuti a diventare un'eucaristia a diventare uomini e donne eucaristici uomini e donne che ringraziano Dio perché tutto quello che abbiamo tutto è dono e tutto è grazie buona Pentecoste Shalom sei qui davanti a me un mio Signore sei qui davanti nella tua grazia trovo la mia gioia io lo do ringrazio e credo per te il mondo ritorni a vivere in te grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.